È un onore per me, anche perché so che a dare i voti sono stati i coach e allenatori di tutte le altre squadre del campionato, quindi ovviamente è un riconoscimento immenso per me. Sono molto contento anche per i tifosi, per i miei compagni di squadra. Siamo un gruppo molto unito, tutti sanno ciò che c'è dietro a un premio del genere, quanto sacrificio c'è, quanto lavoro c'è durante la settimana. Sono estremamente felice di questo premio, di questo riconoscimento. Probabilmente sì, vincere l'NVP non è una cosa che capita tutti i giorni, a me non era ancora successo. Quest'anno inoltre ho avuto l'opportunità di giocare non solo il campionato italiano, ma anche le competizioni europee. Ho segnato tanto, le mie qualità di leadership sono emerse, diciamo di sì. Con Patrick ho fatto un solo allenamento fino ad ora per via anche di questi giorni frenetici, tra la consegna del premio MVP, vari allenamenti insomma. Ma ci sarà modo di conoscere meglio sia lui che Alex, che appunto non conosco ancora dettagliatamente, ma so che sono giocatori molto intelligenti che potranno appunto aggiungere ancora più intelligenza cestistica al nostro modo di giocare. Ed è importante che si integrino fin da subito per far sì che si amalghino col gruppo e con quelli che sono gli obiettivi, insomma la voglia di far bene per questi play-off. E' sicuro che sono parto di quello che stiamo cercando di fare, perché credo che ci sia più successo. E' sicuro questo matchupo con Trento, ovviamente sono un team molto bene, hanno stato molto bene in la seconda parte della seconda parte della season. Non è un segreto che fino ad adesso Trento abbia disputato un'ottima stagione fino ad adesso, non è neanche un segreto che le due squadre ormai si conoscono molto bene. Trento è una squadra molto aggressiva sia dal punto di vista offensivo che da quello difensivo. Dovremmo mettere qualcosa in più per portare a casa questa serie, per riuscire a dominare una squadra del genere. Le piccole cose saranno aiutare a creare i piccoli edgetti che abbiamo bisogno, o gli avvantaggi che abbiamo bisogno. Saranno i giocatori, i giocatori, le cose che rendono il play-off basketball. Io e Tio abbiamo una storia insieme, mi ha coachato a Cremona, è qualcuno che ho molto rispetto a Cremona, principalmente perché mi ha sempre spinto a essere il migliore giocatore che posso essere. Quindi è un allenatore che rispetto moltissimo, mi ha allenato quando giocavo a Cremona e mi ha sempre spinto ad essere la migliore versione di me stesso. Continuo a farlo tutt'oggi. Sono molto contento del fatto che anche lui sia stato premiato con un titolo di MVP, di migliore allenatore, perché ha disputato un grande girone di ritorno. e anche al di fuori dell'ambito cestistico c'è un rapporto di amicizia che ci lega, è una gran bella persona. E' un'importante persona in la mia careero di basket. E credo che c'è sicuramente una amicizia e una amicizia, ma c'è ancora una competizione quando giocavamo. Per il momento ci concentriamo sulla gara 1 contro Trento che sarà sicuramente una gara fondamentale della serie contro la squadra trentina. Come ho detto prima, i giocatori nuovi potranno sicuramente aggiungere esperienza e intelligenza al nostro modo di giocare. Speriamo di arrivare più lontano possibile. Speriamo di aver guardato il momento. Speriamo di aver guardato il momento. Speriamo di aver guardato il momento che ci sono più importante. E per noi, come per noi, come per noi. Quindi, non credo che possiamo andare a passare. Ci siamo arrivati a stare e a fare fare una cosa prima. Ho visto alcune cose che sono state rinforzate. non abbiamo ancora novità da questo punto di vista, fino ad ora ho letto qualche speculazione in giro, cose che non sono vere, non sono state dette, quindi non abbiamo ancora niente da dire da questo punto di vista.